Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti allora, mi raccomando, iscrivetevi tutti al canile, iscrivetevi al canile, seguitemi sui social, seguite violapresses.com, stasera ore 21 live di calcio a mercato, quindi save the date, stasera ore 21, Fiorentina, tutte le altre squadre, pontatine, rispondo alle vostre domande, ci sono solo io, ok, e non ho ospiti stasera, ci sono solo io per voi, va bene? Dalla gente per la gente, come dicevano i club dog. Detto questo, ha parlato Borca Valero, ha detto che può fare il regista, va bene? Non come Terò, magari, che quelle sono dotiche, voglio dire, non tutti hanno capità, Cyril manca, dove sei Cyril? A me mancano due giocatori, mi manca Terò e posso dirvi, mi manca anche Dalbert, onestà, inizio a sentire la mancanza di Dalbert, serve un terzino a sinistra, adesso, niente, mi sono fomentato, vi dico due giocatori che vorrei e avrei voluto dall'Inter, sono Dalbert come riserva di Biraghi, va bene? Che tanto, tanto va bene così, dai, abbiamo capito, richiamiamo Dalbert, facciamogli fare la riserva, mi mancano i suoi sguardi, avete mai visto quei suoi sguardi persi nel vuoto? Ecco, mi mancano, rivolgo Dalbert, ok? A riserva a sinistra, solo Dalbert, riportateci Dalbert e mi sarebbe piaciuto anche Joe Mario, mi piacerebbe, io sono convinto che Joe Mario in un 3-5-2 poteva diventare il nostro terzo centrocampista titolare, spero possa ancora arrivare, se va via Pulgar voglio Joe Mario, Joe Mario in prestito, con obbligo dall'Inter, fai un bel, l'Inter ha bisogno di cedere, non vede l'ora di sbolognarsi Joe Mario, è stato uno dei protagonisti dell'europeo del 2016, la Fiorentina ha un feeling pazzesco con i giocatori portoghesi, ve lo dico, se Joe Mario viene a Firenze e lo tratti bene, può essere il nuovo Rui Costa, un giocatore che può rilanciarsi, che è anche mobile, che parte, va in progressione e ti arriva il tiro, può essere veramente un giocatore utile, può essere, può essere un giocatore da rilanciare e via dicendo, anche se magari si pesterebbe un po' i piedi con Castrovilli ad oggi, ma io un Joe Mario alla Fiorentina, in caso di necessità ed esigenza, per me sarebbe un grande sì, ti fai un bel prestito con obbligo a determinate condizioni, magari a numero di assist, a numero di gol, a numero di presenze, fate come volete, oggi lo paghi anche poco perché l'Inter ha bisogno di liberarsene, lui può essere interessato a giocare titolare in vista degli europei, se si impone, se diventa il Joe Mario che abbiamo visto agli europei, se torna il Joe Mario che abbiamo visto agli europei, si rivaluta e può diventare il terzo titolare di centrocampo, io un Joe Mario non lo butto via, o non lo buttavo, se è troppo tardi. Poi Borca Valero ha fatto la conferenza stampa, ha detto che lui può fare regista per l'appunto, quello che vi ho sempre detto e che vi ho detto anche il suo Rivo, è un giocatore che nella fase finale della sua carriera può sacrificare quel po' di dinamismo, essere messo in un centrocampo a 5 con a fianco due mediani che lo proteggono e nel caso occuparsi anche dell'impostazione del gioco. Io credo che in certe partite lo vedremo fare questo, può conservare quel poco diciamo di mobilità ancora che ha per rendersi a Chiniano, tra virgolette, però un giocatore come lui nella fase finale della sua carriera dovrebbe puntare anche a quello, a stabilizzarsi, diciamo a giocare un po' più da fermo, a far parlare i piedi, capito? A far parlare i piedi, testa alta e giocare a calcio come diceva il maestro Gianpaolo. Poi voglio fare una piccola pontatina polemica, va bene, una piccola pontatina polemica, vi ricordate a Gudelo in inverno accolto dicendo questo potrà essere il nuovo Pizzarro? Ecco, se quella frase l'avesse detta Corvino, salvo poi vedere il giocatore rispedito ad agosto al Genoa e poi in prestito allo Spezia. A quante prese per il culo, meme, battutine salaci avremmo assistito? Punto di domanda. Siate onesti, a quante battutine avremmo assistito? Me le immagino già i video di Corvino che dice questo può essere il nuovo Pizzarro e via dicendo. Sono andati avanti a scartavetrare i maroni tre anni con Maxi Oliveira e qua. Mi immagino se la questione a Gudelo fosse stata gestita da Corvino cosa sarebbe venuto fuori. Ma vabbè, a parte questo, c'è una questione interessante anche per quel che riguarda le fasce, perché Chiesa sembra che venga messo esterno destro nel 3-5-2. A me non spiace come cosa, anzi è dall'anno scorso che ci sgoliamo per farlo giocare in fascia, però per esempio contro il Torino si parla già di un Chiesa titolare in fascia e Biragi titolare dall'altra parte. Allora io mi chiedo, ma siamo sicuri che la riserva dell'esterno sinistro, stante così le cose serva? Serve se va via Chiesa. Però se resta Chiesa e Chiesa gioca in fascia, si può profilare una situazione di sto tipo. Chiesa è venuti a destra, capito? Chiesa titolare a destra è venuti riserva. E a sinistra avrai Biragi e Lirola, perché sapete che Iachini ha la fissa di, non so perché, di avere Lirola in fascia a sinistra. E quindi, per esempio, ho visto già alcune formazioni della squadra che giocherà contro il Torino e vincerà, perché noi col Torino, segnatelo, vinciamo 3-0, 3-1, 3-0, perché col Torino andrà così. Poi con le altre ci sarà di che vedere con Inter e via dicendo, ma col Toro sono sicuro che vinciamo. Però spiazze per Lirola, spiazze per Lirola, spiazze. Spiazze per i ragazzi, perché comunque se c'è di Chiesa a quel punto lì la situazione si riequilibra, perché a destra torna Lirola, a sinistra metti Biragi, a destra riserva i venuti, a sinistra ti ripigli da alberto o ti prendi una riserva. Stante così le cose Lirola è un po' penalizzato, però giustamente Chiesa deve giocare in fascia seresta. Il fatto di cederlo per me sarebbe una buona cosa anche per valorizzare a questo punto Lirola e avere Biragi dall'altra parte. Un altro giocatore che andrà valutato è Duncan, perché vi ricordo che è un giocatore che è stato pagato circa 16-17 milioni tra prestito e cose, circa 17 milioni. Con gli arrivi di Bonaventura, Borca Valero, Duncan e Pulgar, vi ripeto, le gerarchie non sono tanto chiare. Credo che molto dipenderà dalla partita, dalla situazione e via dicendo. Di Duncan non parla più nessuno per esempio. Visto che manca un terzo titolare preciso, c'è un po' di anarchia nel terzo. A quel punto ricordiamoci che hai pagato Pulgar, hai pagato 17 milioni Duncan e bisognerà vedere chi emergerà da sto lotto qui. Io continuo a dire che la soluzione migliore sarebbe stata quella di non comprare Borca Valero e Bonaventura, prendere un terzo centrocampo forte, magari cedendo qualcuno e tenersi Pulgar e Duncan come riserve. Che voglio dire di tre di centrocampo, avere tre titolari e due riserve ci può stare alla grande. Poi uno dei due se volevi lo potevi anche prendere così eri in sei, avevi l'abbondanza che magari ti serve per queste cinque sostituzioni che ci saranno e via dicendo. E niente, per il resto la squadra, ho visto che la coppia d'attacco che dovrebbe giocare col Toro sarà Koua Meribery, ho visto che Vlaovic ha preso la nove, un temo che comunque vedremo anche per quest'anno la staffetta tra gli attaccanti perché credo che, penso che Ribery purtroppo venga messo in campo sempre tra le due punte. Io vi ripeto, magari per voi sarà una formazione iperoffensiva ma io non penso, stanti questi uomini qua, la mia formazione titolare preferita della Fiorentina è la seguente. Dragoschi in porta, difesa Kacere, Spezzella, Milenkovic, poi a centrocampo puoi mettere Amrabat, Castrovilli e Pulgar che comunque tra quelli che abbiamo è quello che tutto sommato ci potrebbe stare, potrebbe avere un anno di rilancio. Sulle fasce libertà, nel senso che puoi mettere Biraghi a sinistra e Chiesa a destra mi può stare bene, ok? E poi davanti puoi mettere Vlaovic e Cutrone. Oppure un'altra scelta potrebbe essere quella di giocare col 3-4-1-2, ancora più spericolata ma forse la migliore, con difesa solita. Sulle fasce metti Biraghi e Chiesa, i due al centro metti Amrabat e Castrovilli, Riberi trequartista e Vlaovic e Cutrone davanti. Qualcuno dirà che è una formazione superoffensiva però io sono dell'idea che quando hai i giocatori forti, cioè che il far la formazione in genere dovrebbe tendere sempre a mettere in campo i giocatori più forti che hai. E a me un 3-4-1-2 futurista con difesa a 3, Milenkovic, Caceres e Pezzella, Chiesa e Biraghi in fascia, Amrabat e Castrovilli al centro, Riberi trequartista e Chiesa e Vlaovic e Cutrone davanti, a me non spiace per niente onestamente, a me non spiace per niente. Ditemi cosa ne pensate, un caro saluto e a stasera ore 21.